ed eccoci ragazzi per questo nuovo video oggi ragazzi prova farà un po un giro un giretto adesso vediamo pensiamo penso al vivione ma vediamo un attimo comunque oggi mi servirà di prova per la nuova sistemazione della gopro ho cercato di alzare un po visto che mi prendeva solo la borsa serbatoio e diciamo ci vedeva poco di panorama a mio avviso non lo so poi ditemi voi nei commenti se vi piace questo questa nuova inquadratura diciamo ok ragazzi si parte con la via mala qua ok 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 eccoci qua spettacolo ragazzi spettacolo spettacolo a passo del vivione spettacolo spettacolo Non mi spettacolo, spettacolo Spettacolo, spettacolo Spettacolare Spettacolo Bellissimo Wow, wow, wow Wow Passo Vivione Spettacolo Bello, bello, bello Yes Yes, yes Yes Che bello Che bello Eccoci qua ragazzi Si scende Dal passo del Vivione è davvero bellissimo Bellissimo E niente, se vi è piaciuto questo video Ragazzi Mettete un bel mi piace Ricordatevi di iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E questo è il passo del Vivione Un po' stretto Però è davvero bellissimo Diciamo che se non salgono macchine Pensavo di trovare più neve Che non ce n'era tanta Anzi non ce n'era proprio per niente su Bello, bello, bello Vabbè io diciamo che chiuderei qua il video Ricordandovi appunto di iscrivervi al canale E di mettere un bel mi piace come sempre Comunque arriveranno girate un po' più Un po' più belle Tempo permettendo Visto che fa un po' cagare qua Il meteo Oramai fa un po' schifo Domani già piove Quindi Ditemi anche se vi è piaciuto Il nuovo setting della inquadratura Che è leggermente più alta E quindi niente Grazie ancora di aver visto il video E ciao ciao Ciao